Non sono Marco, sono intromesso malissimo in questo canale, sto facendo semplicemente un test di trasmissione, perché venerdì escono Pokémon, Sword and Shield, e volevo essere sicuro che tutto sia a posto. Per poterlo streamare in maniera ottimale. E con questa scheda di acquisizione ci sono un paio di secondi di ritardo, quindi questo era il mio dubbio principale. Queste cose le dico non per chi eventualmente mi vede, ma per i postumi, cioè me stesso, perché io sono furbo. Comunque, quindi, in maniera parecchio palese, questo non è lo streaming di Battlefield che vi stavate aspettando tutti. Spero che non siate tristi, tra poco arriva, non vi preoccupate, non sto rubando completamente la scena, soltanto per un paio di partite, in maniera tale che poi dopo posso valutare bene la roba. Qua intanto divento un pochino sul CTR, sulla Switch, quindi con la grafica di merda. Ma va bene così. Switch è bello perché le cose postatili sono più belle. E' quello per cui si paga il prezzo del biglietto qui. Vorrei vedere un po' le missioni del giorno, ma non me ne frega più di tante. Tiny Tiger. Sì, vabbè, dice di fare tante robe con Tiny Tiger. Ma non c'è nemmeno lo skin che la potenzia. Quindi basta se lo fa. E facciamoci un giro così. Credo che una gara possa bastare, anche se, insomma, lo streaming del proprio inizierà. Una quarantina di minuti. Bello fare queste cose stealth. Ragazzi, state attenti, affidate la chiave di stream. Sto leggendo un ragazzo che dice che Devil May Cry ha un sistema di combattimento migliore di Dark Souls. E non sarò mai d'accordo nella vita. Non sono due cose troppo paragonabili. Stranamente su Nintendo Switch il matchmaking fa bestemmiare molto di meno perché trova spesso le partite. Cioè, molto più spesso. Ha comunque problemi. Ma non quanto ne ha sulla PlayStation 4. La PlayStation 4 è una bestemmia infinita riuscire a trovare una partita. Un'attenzione. Oooh. Ehi, in questo istante ci sono già di cose qua. In cose in turnie col se Minato, dove ho avuto il tempo di pensarci un po' bene. per farmi capire più o meno quanto è risalto e se faccio qualche reazione in ultralive quanto è nato di da un po' di merda però soprattutto spokémon non dovrebbe essere un problema così grande adesso che stiamo parlando di un JLPG per il suo stampo quindi ci sono le animazioni, le mosse, tutte queste robe e a turni un paio di secondi di ritardo anticipo non dovrebbe essere la fine del mondo e comunque in ogni caso non c'è altro modo per spimare da console a meno che uno non si compri la versione più sofisticata di questa roba che ho io ma già questa mi costò un po' all'epoca non voglio immaginare la versione più sofisticata quanto stiamo parlando dell'ordine dei 200-300 euro che sicuramente per un ragazzo dell'Occidente Università se non ci sono contando che questa non è la mia unica passione io suono e me la canto proprio con queste piste che sono queste cose che di quell'acchiscono mi fanno un cazzo vabbè mi capita proprio il terzo giro il coso per non decarmi le mazzate e vabbè è andata il terzo giro eeeh non lo so mi potrebbe bastare questa gara in realtà come prova ma ne fanno un'altra tra un'altra un pini tigre giusto sì così per fare concorrenza a una rumi che sa stima il tuo canale a lui da lei che fa le cose apposta io non le faccio apposta ho fatto il cellulare si sono quasi alla goal tire manco a farlo apposta anche di là perché questo gran premio cioè questi gran premi stanno insieme a fare un po' a stare un po' sul culo mmm non hanno molto senso spero che ho scavo qualche pista divertente che ha dovuto andare a farlo lo scoccio giugno ma è un po' di cose qui e questo non è quello che ha fatto un po' di cose ha fatto un po' di cose Devo mettere Tiny Tigre Madonna So che si chiama Tiny Tiger O Tiny Tigre Per Ambitudine Ce l'ho fatta tutto il tempo E non potrò Cioè posso vedere cosa devo fare Ok 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 Credo che devo fare delle acrobazie Però Però Mi piace Non è rispetto alla mia team Eh sì Lo so Di non avere chissà Palli monica Ma sì Dove c'è l'uomo Fa veramente strano Perché Che la reclusione Al massimo Dove far perdere Un po' di qualità Non che ce ne sia chiusa Quanta In questa reclusione In questa reclusione O Comunque adoro questa macchina La mia cosa Che finitina Perché E comica ma non troppo Cioè Alla fine Viene da un parco giochi È un autocontro Ma che bello Bello A delle secondelle E anche comodo Pur non avendo le ruote Come La macchina di Oxide O la Pro 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 Non ho mai finito Per così tanto tempo Il Blue Fire In questa pista Evidentemente Quando parlo A dambela E baffanculo Sbaglio Se comunque I miei miglioramenti Si notano Quando io Prendo E non faccio Una pista Per tanto tempo Poi la riprendo E va tutto bene Magicamente Fantastico Comunque Non vedevo una sveglia In questo gioco Da Mesi Sono felice Cioè nel senso Toglierle completamente È stata una brutta scelta Quindi Per quanto Siamo a tutti Che fanno A destegnare Non ha senso Proprio Eliminare Ma Vidulli Sì Visto che Erano decisamente Non so Di prima Mi è arrivato Un messaggio Credo che sia Siano gli altri ragazzi Del canale Che mi stanno Dicendo Che cazzo Stai facendo Non vi preoccupate Ragazzi Questo è l'ultimo giro E vi lascio Vi lascio Libere E un'altra Stegna Ok Ok Alla terza E ritiro Quello che ho avuto Rimato Che è una pizza che veramente so fare Noi ci vediamo Venerdì Vi lascio Tra una mezz'oretta Che ci saranno Gigi e Bye I don't Non ho avuto La gente La gente Che bello Lo stacco Quando c'è proprio 5 4 3 2 1 Zero No Non c'era Zero Fanculo Non c'era Tornare 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 Grazie a tutti.